ma ci stiamo rendendo tonnello bevando la seconda cara andiamo a vederla ma il video Valvo non la senti che rombo oh ma chi è primo? ma lui parte sempre male poi dopo la seconda cara andiamo a vederla oh dovizioso secondo cosa avevo detto ma capirò che non c'è no no